Cominciamo con la riete. Una fiducia forse smisurata nei confronti dei vostri mezzi può indurvi a fare delle mosse inappropriate. Vi sentite in forma generale proprio al top. Toro, alcune vostre perplessità possono rivelarsi motivate. Gli eccessi di entusiasmo da parte delle persone che vi circondano si possono rivelare controproducenti per la riuscita di alcune situazioni alle quali vi state dedicando. Gemelli, alcune vostre prospettive risultano tutt'altro che obiettive. In ambito professionale badate che tale atteggiamento non si ripercuota poco positivamente proprio sui vostri obiettivi. Cancro, in maniera piuttosto inaspettata si potrebbero presentare a voi delle situazioni che attendono soltanto un vostro cenno per essere colte. Ciò potrebbe spiazzarvi, ma non potete essere sviati da ciò che in questo momento vi preme di più. Leone, forse c'è una sorta di meneferghismo nel vostro modo di relazionarvi con persone e situazioni. Le stelle vi consentono di avere comunque una buona grinta che pare prescindere dalle situazioni oggettive che vi circondano. Vergine, l'intuito che in questo periodo pare enfatizzato dalle stelle propizie vi dà la possibilità di districarvi da alcune situazioni caotiche influenzate da altri influssi astrali meno favorevoli. Bilancia, una sorta di grinta smisurata pare animarvi in grado di farvi smuovere le montagne. Se deciderete di impegnarvi in contesti che vi premono, il vostro slancio è in grado di farvi arrivare ovunque vogliate. Scorpione, si prospetta ancora una giornata positiva per voi in cui potete lanciarvi in avventure che alimentano i vostri entusiasmi. Non lasciatevi smontare però da persone invidiose che non sanno agire con il vostro sorriso. Sagittario, alcuni vostri intenti potrebbero rivelarsi piuttosto incongruenti. In generale anche nelle situazioni più semplici potreste faticare un po' a far andare le cose come desiderate. Capricorno, un atteggiamento quasi incosciente sembra caratterizzarvi in questa giornata, anche perché di fronte ad eventuali ostacoli, manifesterete una sorta di ottimismo quasi irrazionale che comunque vi consentirà di non fermarvi di fronte a nulla. Acquario, benché pare non esservi nulla di fronte a voi in grado di rallentare il vostro incedere, alcune vostre prospettive potrebbero rivelarsi eccessivamente ottimiste. Fermatevi qualche giorno. Pesci, prima di agire, sarebbe il caso che distinguiate bene quali sono i mezzi effettivamente a vostra disposizione. Pare essere questo il suggerimento degli astri per voi, specie se siete nati nella prima decade.